Nazionale Fortale La incontrazione La incontrazione La incontrazione La incontrazione Onde su i riccioli? Danilo, i riccioli. Onde su? No, non c'è nate. Ah no, già. Grazie per la pagata. Qua ce l'ha contato con l'alessandro. Si buttava l'alessandro digitale. Passava il tuo occhio, l'alessandro è un po' buono. Non ti prego nè che cosa. L'ha scattato la cuora, l'ha scattato. Perché l'ha fatto a batteriare? Danilo. Danilo, che fai a girare la cosa, la béisbolla? L'ha scattato. Che ha paura? Hai tutto topo? Aspetta da un'espetta. Vabbè, ma voce è... ... 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